Wow 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 ragazzi questa è una premessa prima di cominciare questo video Questo è il mio best funny moments Oppure il best of Spero che questo video vi piaccia Arriviamo a 80 like per questo video Se ne volete vedere altri Prendete i pop corn Coca Cola alla mano Buona visione Speriamo almeno in questo Speriamo, 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 speriamo Eccolo, eccolo Sì, 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 lo sento Hazard, hazard, hazard Hazard È un hazard, sì Yeah, hazard Good player Dio, sì, sì, hazard Ma vaffanculo, yay Ok Nessun bacchetto Nessun bacchetto Speriamo Oh mio dio, merci Oh mio dio, merci, le corbeche Oh mio dio, merci, le corbeche Oh mio dio, merci Oh mio dio, merci Oh Ahahahahahhaaa! Oh... Oh... Oh! Ahahahahahahahaaaaaa! Niiiiiii! noo zonbio apocalips ma nyang 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 dei per noi per mille nyang E' DIAVO CASI- Sieni qua Giù NAAA No No Che schifo Che schifo Il gol della merda Il gol della merda Che schifo Ma dai Ma vaffanculo Che Ma dai Che schifo E' lesbica? Non credo Prego Meness Ti prego Meness 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 La finale è nostra La finale è nostra La finale è mia Jeremy Meness 2 al 1 rompi i culi E andiamo così ragazzi La Youtube Transmet tournament L'ha vinta Il Milan Di Rinanza E andiamo così Quindi giocheremo Una partita Con questa squadra E speriamo Che Dio ci aiuti Ragazzi Prossimo pacchetto Con i bibita In copertina Prossimo pacchetto BAY 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 ROSA 5 milioni BAY ROSA BAY ROSA Oh mio dio Quanto costa 5 milioni Oh mio dio Ce ne sono da Nessun marcato Però 5 milioni BAY ROSA Oh mio dio L'ultimo pacchetto Dai L'ultimo pacchetto Adesso io Guardate le gambe Mi bisogna 4 milioni Vai L'ultimo pacchetto Di questo Discard Pack Challenge Incredibile Eccezionale Adesso Oh mio dio Se lo fai scartare Sbacco il joystick Allora Se un attaccante Devo scegliere difesa Ma se un difendore Devo scegliere tiro Cosa scegli? Cerco difesa Ti dico che è basso Da oggi finisce La nostra amicizia Quanto c'è di difesa No Perché 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 Dici chi è Chi è 55 Chi è PAIET 74 E' Un'ultimo pacchetto E' rilasio a scartare un doz E' dai Scarta 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 Scartato Ultimo da 2.50 Ragazzi Ti prego Food Galaxy Messi Messi Voglio Messi Chi è 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 Chi merda Si Surri un saluto Bella Terzo pacchetto Ragazzi Da 50.000 Crediti Prego Per favore, per favore, per favore Per favore, per favore